eccoci qua buongiorno a tutti gli amici di strumenti musicali e audio fader io vi ricordo i nostri canali online smstrumentimusicali.it e www.audiofader.com quest'oggi smn friends puntata molto speciale perché abbiamo un ospite veramente veramente particolare a tempo che desideravo di intervistarlo e finalmente ho questo privilegio signori e signori ecco a voi vittorio cosma ciao vittorio riccardo grazie la presentazione guarda eh no eh no perché dicerò di riparla in altre situazioni come accennavo prima io di te come dire ti stalkerò dal 1990 circa no da quando facesti questi arrangiamenti bellissimi dove c'era anche l'amico Demo Morselli che tra l'altro saluto Amedeo Bianchi era gran bel disco vittorio ti dico già subito che la cosa interessante che mi sono fatto dare dalla dalla Warners dal proprietario dei eh il 32 digitale originale e Eugenio lo ha riversato abbiamo già passato due o tre sere a riaprirlo e non remixarlo ma levando un po' l'aspetto anni novanta che era molto bello per l'epoca molto giusto ma anche molto riverberato con i suoni anche molto metallici cioè c'era una tendenza insomma Renato Cantel è un maestro del mixing eh però in quel periodo insomma i dischi di Fiorella Mannoia che ho fatto di di Ruggeri avevano un po' quel suono molto eh wet come si dice nel senso del riverberato con sui rilanti e invece l'abbiamo sentito all'anni settanta cioè senza riverber senza niente con Gavin io e Paolo Costa e guarda ti dico che è una stiamo pensando di rimixare di farne qualcosa perché è veramente molto bello il batterista dei King Crimson insomma quindi Gavin Harrison è un amico e sono felice di averci collaborato più volte e poi Paolo Costa cioè c'era un il Gotham in quel disco il Gotham il Gotham il Gotham Vittorio parliamo un po' la la nostra chiacchierata è legata ovviamente agli strumenti strumenti musicali questo è artisti e i loro strumenti eh con te vorrei fare un chiamiamolo un gioco andando a ritroso nel tempo no? eh tu hai iniziato PFM cioè ti chiamo alla PFM a sostituire Flavio Premoli che strumenti no prima dai correggimi io sono stato svezzato da a parte Giosquillo che è stato il mio primo lavoro che ricordo con affetto perché sempre è stata affettuosa c'è parte di Chaos Rock poi mi hanno preso i Volpini Volanti che è stato un ottimo trampolino cioè erano il gruppo ahimè non ci sono più i due gemelli ma erano il gruppo hype del momento il gruppo che faceva funk quando non lo faceva nessuno quindi sono stato assoldato dal gruppo di tendenza poco conosciuto facevamo Mister Fantasy qualche trasmissione televisione ma i musicisti bravi venivano a sentire noi perché eravamo quelli più moderni più alla page e in quel frangente lì mi vide Lucio Fabri io poi ero un noto rompipalle ci rompevo le palle a Lucio e tutti fatemi lavorare voglio lavorare voglio suonare voglio fare musicista e un giorno mi arriva la telefonata di Lucio dicendo guarda vuoi venire a fare questa stessa della PFM ho fatto un provino e poi mi hanno preso vado sugli strumenti però perché sennò divento e che strumenti c'erano in quell'epoca il primo concetto vi ricordo che a parte che l'atteggiamento era proprio veramente anni 70 molto bello piazza Santoronzo a Lecce senza avere mai provato con loro cioè la piazza gremita perché la PFM nell'85 faceva gli stadi cioè era ancora il gruppo di riferimento il più grosso che aveva suonato all'estero quindi questa piazza gremita mi dicono ma si sali non ti preoccupare questo francone Patrick Franz e io avevo il mio DX7 con un il primo proprio l'uno che è qua vedete qua aspetta vediamo se si vede e con il mio meraviglioso che ho perso pedale TC Electronic Chorus Flanger quello nero che suonava da Dio più mi mettono in mano il Minimug di Premoli e io un po' avevo utilizzato ma era un sogno per me vero il Minimug quindi mi sono dovuto trovare tra un pezzo e l'altro a fare come si faceva cioè per fare il suono di Celebration che non era un suono di secondo piano ma ho trovato con non lo so 20 30 mila watt a trovare il suono io quindi è stato un bel militare quello quindi un bel sudare arrangiarsi con quello che c'era poi avevo mi pare un CP80 che mi procuravano loro io non avevo questi strumenti così avevo solo il DX7 però loro mi dicevano non ti preoccupare ti procuravo noi poi primo tour anzi prima primo disco in studio al mitico Psycho Studio di Claudio Dentes mio caro amico Otar Bolivecic produttore degli Elio Luceoletese che non escevano ancora e io lì ho incontrato Fejez che faceva il Pony l'ho incontrato Paolo Costa che no anzi Massimo Costa programmatore di Sint che mi diceva mio fratello suona il basso da Dio devi sentirlo e allora abbiamo cominciato il basso che abbiamo cominciato a suonare insieme lì lui faceva il disco di Maria Qua Viva io ho fatto il disco di Maria Qua Viva insomma era una specie di famiglione certo il studio usavo avevo il privilegio di usare strumenti che io non avevo quindi questo per me è stato come entrare nel nella pasticceria un bambino di 7 anni goloso quindi c'era Massimo Costa tutte le tastiere più moderne io avevo il DX7 lui aveva il DX816 che erano non mi ricordo se 6 o 8 DX7 uno dietro uno attaccato all'altro in FM quindi una sonora mostruosa quello che usava C Corea nell'Electric Band 1 poi aveva il PPG super animale digitalissimo gelido con degli suoni mamma mia teutonico al massimo e poi cosa c'era vabbè c'erano poi delle gli emulator i primi campionatori si quindi vi ricordo proprio l'emulator la CAI forse S900 è uscito dopo l'S700 l'S612 si quella roba lì poi aspetta cosa c'era e c'era qualche Juno 60 che qui vedete qua c'era anche l'Oberine OB8 che è qua non quelli lì non glieli ero rubati ma nel tempo li sono presi e piano a coda il CP80 il Fender insomma tutto quello che si poteva avere in quel momento live invece ho trasposto tutto con i primi soldi che mi hanno fatto guadagnare la premiata ho comprato una tastiera la KX88 la master la master certo un campionatore S900 o S7C non mi ricordo più però un campionatore il DX7 i pianoforti non mi ricordo più con cosa li facevo l'MKS20 che era l'expander dell'RD1000 certo del pianofortone RD1000 quello che usava anche Prince che si l'ha usato anche Caruso Caruso di Lucia Dalla esatto esatto e io soffro un po' cioè diciamo che per l'epoca meraviglioso adesso mostra un po' gli anni ecco i suoni di quello e alcuni altri hanno un po' anche l'M1 mi permetto di dire che rappresenta un'epoca ma un po' ha fatto la sua poi e il mini questa roba qui sto pensando i synth le cose da solista no c'è stato per il primo tour forse il mini moog poi si è passato ad altre cose perché il tour successivo della premiata sono usciti M1 e D50 quindi si è avuto l'universo riverberi suoni già effettati preset complessi c'era il famoso universe 00 di Michele Paciulli esatto dell'amico Michele che salutiamo che salutiamo è un'abitura qui da noi siamo già alla seconda puntata del con M1 ai giorni nostri sì perché poi io dall'M1 ho seguito tutta la filiera delle workstation perché forse mi sono anche abituato devo essere sincero però sono le più user friendly e sono le più comode io c'ho qua la Kronos ma c'è c'ho avuto l'M3 c'ho avuto la Triton come si chiama non la Triton Trinity certo tornando indietro tutte quante perché è una un ambiente un environment molto comodo c'è tutto mi serve un oboe un triangolo un gong o un glock c'è c'ho tutto lo trovi lo trovi alcuni sono di buona qualità altri un po' meno ma in generale avere una macchina così utile così complessa che c'ha dentro il sequencer ti puoi caricare i campioni fantastica quindi infatti sia con Gizmo che con Elio mi porto sempre dietro o la Kronos o un analogo della Korg insomma di quella filiera lì certo quindi sei legato a quel tipo di sonorità anche cioè a quel tipo anche di interfaccia ti ci ritrovi sempre mettiamola così l'interfaccia che di San dalla Trinity alla Kronos hai sempre ritrovato quell'interfaccia a te familiare accendi vedi sul display organ jump to sub vedi organ da chiesa è proprio user friendly che quando sei al volo che devi suonare siccome capita spesso anche con Elio io devo poter operare certo conosco che alcuni suoni sono anche molto cioè Yamaha ha delle cose strepitose quello che faccio più fatica entra tipo i primi anni che Sergio Conforti che il Rocco Tanica mi chiese il Sergione il Sergione in Elio io ho usato il suo pianoforte la sua roba di modo che avessi gli stessi suoni di pianoforte di elettrico di cose però ha un problema proprio di interfaccia complessa io delle volte un po' al buio nel Palasport spengo le luci sbaglio un tasto che non devo entro in un menù che per me è Kafka cioè sono perso nel labirinto del Minotauro e non riesco più a usirne facilmente certo però mi rendo conto che i pianoforte sono molto belli ad esempio ma tu eri più da noi probabilmente i giovani oggi sentono queste terminologie sbiancano tu eri più da rec frigorifero o da poche tastiere con i suoni in quell'epoca cioè avevi il rec e il frigorifero io vengo dal mondo cioè il mio il mio gota sono gli anni 70 io sono cresciuto con quella roba lì poi negli anni 80 mi sono ho cominciato a fare professionista mi sono un po' adattato alla modalità frigorifero e master keyboard ma non l'ho mai amato perché amo interagire con quello che succede ho fatto pochi tour con le sequenze pochissimi forse guarda con le sequenze con i suoni che ogni pezzo mi si squittava la tastiera cioè i fiatti le cose perché diventi un po' un esecutore mi rompo un po' le palle non è il mio film che non è il mio film e trovare delle cose penso interessanti nell'ambito di un incontro con altri musicisti certo essere circondato anche con la biba per dire ti usavo sì la master keyboard ma ci facevo dei suoni di piano più belli ma non non facevo lo split col campionamento anche l'ultimo tour di Gizmodrome che abbiamo fatto ho cominciato con il buon Andrea Pellegrini che mi ha splittato la Nord Stage con i fiatti poi le voci il fischio le cose ma dopo i primi due giorni ero lì con Billy U Copeland io non ho mica voglia di stargli a fare questa la terza battuta mi stufo se no avrei fatto il conservatorio cosa che non credo parti subito con l'all keyboard col suono su tutta la tastiera e via e merso anche perché suono guarda se vedi il mio studio poi adesso ti faccio un girettino così è pieno di questa roba qua cioè io adoro avere tastiere contro tastiere organi perché ogni cosa ti suggerisce una modalità ogni strumento ti suggerisce un modo di suonare un'idea quindi prediligo quella roba certo e abbiamo parlato dello studio music production nasce in che anno esattamente? music production nasce come studio di musica per pubblicità gestito da mia sorella che saluto ciao Rosa che mi ha svezzato al mondo professionale lei era una pubblicitaria anche un musicista che aveva aperto questa agenzia in cui lei procurava i lavori di musica per la pubblicità stiamo parlando dei primi anni 80 certo in cui c'erano anche altre economie quindi io Mario Saroglia Gigi Venegoni tutte persone che poi hanno fatto discografia Venegoni di Venegoni Company Gironzolava e ogni tanto mi chiamavano mi dicevano c'è da fare un gigo io pronti quindi andavo facevo quello che dovevo fare e lì ho imparato a farlo arrangiatore cioè a costruire un oggetto musicale in un tempo finito con delle modalità diversissime cioè doveva come il pezzo deve cominciare heavy metal poi continua rap poi diventa liscio e finisce napoletano sì 20 secondi quindi lì ce la devi fare in qualche maniera allora come è il punk cioè lì ho capito ho cominciato a codificare tutte le varie i vari generi musicali come vanno fatti quali sono le caratteristiche certo quella palestra lì mi è servita a cominciare a fare l'arrangiatore quindi musico nasce nei primi anni 80 e io ero un libero battitore tutto ciò è andato avanti fino alla fine degli anni 90 io poi mi sono trasferito a Roma per fare le colonne sonore io ho la mia carriera prima di session man poi di arrangiatore poi di produttore poi di autore di roba mia di colonne sonore di progetti miei particolari certo ogni tanto c'era questa bella telefonata piacevolissima che diceva ci sarebbe da fare il giro della coca cola ma certo volete il cornetto algida benissimo siamo qui queste robe vabbè sono dei brand dei brand conosciuti e quindi ti hai risposto a Roma così poi dagli anni 2000 mia sorella io avevo lo studio a Roma in Viale Mazzini come tutte le cose romane vicino alla Rai mia sorella mi diceva ma senti perché non torni su io volevo un po' tornare su e uniamo le forze facciamo una casa di produzione insieme con colonne sonore dischi sono arrivato e mia sorella giustamente perché era molto più grande di me è telata e se ne è andata in Salento in un bellissimo posto di una masseria a godersi la tarda età c'era dei 60 in su e io mi sono trovato un po' con in mano una bellissima struttura a cui ho partecipato insomma ho fatto parte per tanti anni a gestirla io che nel frattempo mostro mostriamo ai nostri amici ecco qua con il glicine vedi 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 gli studiati si vedono si sono le varie sale ecco una cosa che mi chiede che volevo assolutamente e dagli anni dal 2010 l'ho trasferita qui in questo posto col giardino perché è fondamentale per me avere un contatto con la vita cioè ho già dato negli scantinati ci ho già dato per 25 anni adesso invece vedo gli alberi sento i bambini nel parco sono felice e in studio hai dei come dire vedo dietro di te un mixerone hai delle cose particolari da segnalare o tutte le tastiere vanno ai banchi certo particolare dicevi il mixerone allora c'è stato un incontro molto fortunato non ricordo neanche come è successo all'inizio con Stefan Schertler con Drago che è una brand svizzero che con appunto l'attenzione la cura del dettaglio ma anche l'estetica mi viene a dire svizzera io sono un grande amante della svizzera e Christian Meyer è uno degli alfieri mi racconta sempre storie della svizzera io sono con lui su questo sono un grande amante della svizzera mi hanno contattato per avviare una collaborazione mi hanno fatto vedere le cose che facevano che io già un po' conoscevo ma non bene mi hanno presentato prima di tutto il mixer Arthur che è modulare quindi lo costruisco come mi pare a me in classe A quindi qualità eccelsa certo hanno i direct out questa che per me è cosa per le tastiere è fantastica così io ho la roba che mando per registrare ma io posso sentire perché la cosa che ho sempre odiato sui palchi e in studio è che attaccano tutti i lampi il batterista parte io sono sempre lì muto perché non succede una mazza quindi con questo sistema riesco a sentirmi subito intanto io li mostro intanto li mostro eccoli qua certo eccoli qui vai 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 e sono felicissimo perché me lo sono costruito ne ho due ne ho uno qua uno che uso dal vivo e uno piccolino anche di là me li costruisco come voglio io ci sono sempre novità poi i canali i canali mono analogici stereo aux master submaster c'è un po' di tutto fantastico vero è vero ti dà la possibilità di costruirti il mixer con channel strip ribadisco la classe A cosa che non è non è da tutto in più io ci bado anche questa roba qua con un'estetica stupenda cioè un po' vecchio tra la Svizzera e l'Unione Sovietica ma un'anno 70 è molto un'illuminazione meravigliosa come potete vedere anche con i fianchetti in legno no poi i profiletti in legno mi hanno mi hanno conquistato alla fine poi mi hanno oltre questa cosa mi hanno presentato una serie di cose come ad esempio adesso io ho il team ma ho anche due tom adesso non so se si le sono di fianco al televisore vedete che sono questi due impianti da circa mille watt che suonano da paura cioè con questi impianti io riesco prima di tutto a sentire cioè io oltre alle case che ho in studio per registrare per mixare ho questo piccolo impianto con sub e due satelliti con cui sento immediatamente le mie tastiere mi rego i miei volumi e sento le basse sento hi-fi io questo voglio sentire non voglio il monitor montarbo no con tutto il bene per la montarbo assolutamente che anzi stai facendo le cose ottimi però insomma non voglio il monitor da palco da palco voglio una roba i fan certo 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 quindi abbiamo parlato del tuo studio di un pezzo di carriera arriviamo ai tempi più recenti abbiamo parlato anche di Elio e le storie tese delle tue collaborazioni ma già che ci siamo facciamo andare un po' di commenti che abbiamo un po' di commenti dei nostri amici allora Guido Sconi Amiglio grandissimo ecco un saluto Gianluca Sconi Amiglio grandissimo grazie Gianluca Marco Balla immenso vittorio grazie mille che belle tastiere cosa sono lì tanti strumenti il Balla è un collezionista il Marco Balla Rani è un collezionista tra l'altro ce l'hai a pochi passi da casa tua lui CP70 Minimug colleziona parecchi giocattoli come lo chiamano il Balla io ti dico che c'ho della roba che non ho più qua tipo ho dato a Cristian il mio CP80 che lo tiene lui il gentleman è il mio Fender perché non ci sta contando abbiamo ancora guarda abbiamo ancora Gizmodrome ecco Gizmodrome strepitosi vedi ecco poi ci arriveremo Giorgio Marinangeli ciao a tutti grazie Giorgio ciao un saluto anche a te Giacomo Ferrari ciao grazie per la chiacchierata ma grazie a voi che ci seguite ecco vedi Fairlight eh Fairlight è quelle macchine che forse chi l'ha comprata un po' si è pentito adesso che costava come un appartamento no beh dipende Peter Gabbia ci ha fatto i dischi alla Madonna però il gioco forse non valeva la candela perché è una roba troppo il ciclare sarebbe da prendere però penso che anche gli usati la sera che io prima quando ero più giovane andavo su YouPorn adesso vado su me musicale come funziona lì YouPorn più o meno è sempre la stessa roba esatto invece perché ti non sai mai cosa ti aspetta consiglio a tutti il mercatino non sai mai cosa ti aspetti per Vittorio Giacomo Ferrai sono il tasterista che ha ti accompagnato in macchine in hotel dopo il sound check al Viper di Firenze grazie Giacomo che non mi hai lasciato in quel posto freddo e lontano da tutto viva il Viper però è un po' lontano e un po' freddo ciao Ermanno grazie Alessio un mio mito di sempre Alessio Briano poi oh Alè il presidente buonasera buonasera anche a te c'è un mucchio di gente Vittorio che ci sta seguendo monitor da quanti pollici i monitor della Shertler da quanti pollici sono quelli che stai usando in studio non ho la più pallida idea quante sono chiederò sai che non lo so ma in che senso come sono i coni la dimensione dei coni guarda esatto il diametro dei coni eh non te lo so dire bisogna andare bisogna andare a vedere nel catalogo Shertler andate da farci un giro come abbiamo fatto noi adesso home è quello più grosso quello da 1000 watt questo sarà di fare 300-400 watt sono non ti so dire non ti so dire il nostro tag ecco Vittorio Antonello Puzva un caro saluto Vittorio sempre un idolo un saluto anche a Marcello Colò sono tutto orecchi certifai grandissimo live con i Gizmo vedi 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 Manuele Montessanti ciao Riccardo Germi posso aiutare eh Manuele è il produs specialist nonché ambassador Yamaha mondiale ah lo conosci quindi però ti dico allora per la mia certificazione perché poi ovviamente si usa di tutto perché tutte le brand hanno delle figate ovviamente Yamaha Reface ce le ho tutte e quattro cioè e me li sono portati in giro nel Valward adesso sto facendo questo laboratorio di improvvisazione in tutta Italia lo sto facendo l'ho fatto con Busta l'ho fatto con eh adesso ho la triennale con Venerus e Rodrigo D'Erasmo ed è un laboratorio che siccome nei backstage dei concerti ci si incontra sempre e si dice oh è grande dobbiamo suonare vogliamo fare una roba insieme assolutamente e poi non ci si vede mai ci si vede al Sanremo dopo alla televisione alla Rai oh cosa si faccia ho sentito figata grande ci vediamo mai allora ho detto sentite organizzo degli incontri in cui invece di vederci a suonare lo faccio anche in studio l'ho fatto con Filme con Paolo con Roberto e vengono fuori delle meraviglie lo faccio aperto al pubblico quindi alla triennale sono venuti un sacco di persone e faccio partecipare al pubblico come si faceva negli anni 70 bello bello utilizzo soprattutto gli amare face perché non avendo prese la cosa interessante è che deve succedere qualcosa lì fatto da me quindi lo Yamaha quello bianco che è il sint analogico il CS il CS è una figata perché hai le microsequenze hai un po' di effetti e io lo uso in maniera proprio analogica ci sono dei momenti di di casino tra me Rodrigo venero ma poi ci sono dei momenti divini cioè quando ingarri la cosa la gente è lì sul momento è come vedere guarda un po' e come vede entrare in studio quando sai quando c'hai gli amici che sono seduti per terra dicono ma che figata sono stato alle prove di ecco io le sto ufficializzando quindi a Roma lo farò con Roberto Angelini con un po' di amici insomma vede perché è interessante ti è mi aggiornato sugli appuntamenti che li pubblichiamo su strumenti musicali allora Riccardo Grotto grande Vittorio Cosma vedi allora Alessandro Villa grandi grazie Alessandro Marco Moraschi due siti preferiti per i tastieristi Manuele Manuele era solo una battuta per un saluto bellissima live no no Manu prima o poi prenotati per una prossima live anche tua perché anche Manuele è un abitue dei nostri incontri in diretta però mi faccio poche ma mi sto divertendo cioè a parte che sono un chiacchierone quindi mi devi abbattere a fissilare no io mi sto divertendo anch'io e hai parlato dei reface ultimamente ti sei fatto tentare da questa moda dei mini synth analogici questi tutti tutti questi modelli che sono piombati sul mercato oppure parlando per esempio di Roland dei boutique cioè dei rifacimenti di synth storage oppure no no sono assolutamente in target mi devo legare le mani la carta di credito lo sapevo la gas ti prego te ne faccio vedere uno non ero capito io continuo a comprare cose cosette ad anzi quelli piccoli ci stanno come spazio io comprerei gli organi ne ho già quattro qua in studio non ci sto più io poi ho l'Elka lo Yamaha e l'Ectone degli anni fine anni 70 a tre tastiere con cui ho fatto l'ultimo singolo il nuovo singolo che uscirà tra un po' di Gualazzi sono io all'organo elettronico ma con gli accompagnamenti e la batteria e Adriano Viterbini dei Bud Spencer Bruce Explosion alla chitarra fine che meraviglia queste macchine qua e poi tra l'altro non dovrei dirlo ma le trovi anche se vai a vedere bene nei posti tipo subito non proprio mercatino musicale ma tipo subito vendo e devi cercare tastiera pianola e poi mi ha detto dammi 100 euro e te lo porti via certo tutti questi sintomi sono interessantissimi e bellissimi non sono ancora entrato nel mondo ma lo farò dei dei modulari che è stupendo ma lì temo per le mie finanze perché se il tuo è la fine cioè c'è il è come il mixer Schettler cioè una volta che scopri che ci sono i pezzi modulari da montare dentro è finita te lo fai su misura come piace a te e col modulare è la stessa cosa però hai l'amico Domenico lì a Milano da Lucky Music che è un demonio su certe cose è un demonio lui è un tentatore male esatto ho fatto questo il microcosmo non perché si chiami così ma anche perché si chiama così che è un fattore di robe a caso che non so ma interessanti questo è un generatore random di robe io conosco le robe base tipo cut off reverse attack queste robe qua poi succedono robe ma interessantissime fantastico fantastico ascolta parliamo del progetto The Producers diamo ai nostri amici un'infarinatura perché è molto molto interessante io ho seguito alcune live sui canali satellitari e devo dire che era veramente veramente interessante mi piace molto parlacene tu dai guarda parte sempre dal mio amore per gli anni 70 sono partito facendo progetti collettivi e non sono infatti ti dico quando è uscito il mio secondo disco che ho portato in giro da solo pianoforte effetti e synth mi era mi piaceva ma sento il telefono no no sono io mea culpa lo elimino subito non ti preoccupare e ho capito che non era la mia cosa quella di andare in giro da solo cioè lo faccio ogni tanto lo faccio se mi chiamano volentieri ma io devo poter interagire con cioè ho fatto questa cosa per stare con la compa cioè mi piace stare con i miei amici e soprattutto mi piace l'interscambio sia umano che musicale cioè è quella la cosa proprio collettiva che mi interessa quindi ho sempre fatto progetti collettivi alla fine cioè la i volpini e la pfm Elio è un gruppo adesso a un certo punto mi sono detto vabbè a 42 anni quando è successo ho detto ma scusa con chi io vorrei suonare adesso chi mi interessa in Italia avendo anche lavorato all'estero con tanti musicisti importanti proprio mi sono chiesto la gioia poi di fare il produttore di non fare il cantante e che io posso fare mille robe quindi ho pensato mi piacerebbe fare un progetto con quelli più interessanti che hanno creato un suono in Italia secondo me Riccardo Sinigalli è il primo a cui ho pensato perché è un mio amico sodale ci conosciamo ormai quasi da vent'anni e abbiamo fatto tanti bei lavori ho prodotto alcune cose del suo primo disco del suo secondo quindi ed è un produttore quindi è un grande mi ha dato una grande fiducia soprattutto chi conosce Riccardo sa che è uno rigorosissimo non si fa toccare da nessuno quindi mi sono sentito anche idem io quando ho delle cose chiedo a lui ma secondo te e mi fido molto del suo giudizio quindi gli ho chiesto facciamo una roba insieme certo dopo questo ho detto un altro con cui mi incontro sempre nel backstage e ci continuiamo a dire oh siamo di due mondi diversi ma dobbiamo fare qualcosa insieme era Maroccolo che ho incontrato nella notte della Taranta con Copeland lui era lì con Giovanni Lindo Ferretti mi ha detto oh ci si deve trovare il modo di suonare insieme abbiamo fatto io ho fatto una cosa nel suo disco lui qualcosa in un progetto che ho fatto io e allora gli ho detto Gianni ti va se ci vediamo io tu Riccardo lo conosci o sì siamo incrociati un paio di volte certo e poi abbiamo pensato senti ma manca un chitarrista manca qualcuno che sia ancora più diverso da noi e allora l'ho chiesto a Max Casacci che non conoscevo che è un'altra spezia lui invece è attento alla modernità a quello che succede nel mondo in questo momento all'elettronica e con questo quartetto molto improbabile siamo andati io ho voluto mettere una serie di condizioni cioè andiamo in un posto fisico non ci mandiamo i file non me ne frega un cazzo io voglio suonare come nelle sale prove dei sedicenni e siamo andati in uno dei pochi posti ancora rimasti con l'accommodation cioè tu di vecchia maniera con grande sala di ripresa grande sala del mixer e cinque camere da letto cucina e soggiorno quindi avevamo la cuoca e come i genesis gli anni o i rolling siamo andati in un posto che non era diciamo il sud della Francia non me ne voglia Ron ma è lo studio di Ron a Garlasco è un posto di campagna molto bello in una vecchia fattoria quindi noi avevamo la possibilità di suonare quando volevamo come volevamo avevamo da mangiare la televisione le nostre camere quindi in una immersione in una full immersion proprio di musica e abbiamo cominciato a fare musica strumentale poi essendo quarantenni affermati abbastanza bravi dei produttori c'è stato un grande lavoro diplomatico prima di tutto perché figure il produttore è abituato ad entrare in uno studio e dire oh si fa così prendi la cosa cioè due fiati il basso fa così aspetta fammi sentire immaginate ne quattro con delle belle personalità quattro belle teste un balletto di diplomazia litigi io che cercavo di ricucire no maroccolo che diceva a me sta roba country mi fa cagare e Riccardo come country che senso che cazzo dice io non ho lui cagare in toscano e significa bello bello le è piaciuto quindi cercavo di evitare lo scontro diplomatico diplomaticamente dovevi metterci una pezza ecco mettiamola così litigi io e Max che ci siamo scornati ma poi abbracciati alla fine è diventato una specie di gruppo di famiglia di autoaiuto quindi ti voglio bene questo è il lato umano abbiamo trovato un equilibrio musicalmente facevamo delle oggettivamente siamo sufficientemente maturi per fare delle cose interessanti belle ognuno con il suo skill io faccio delle cose più colonna sonora più composizioni canoniche magari con uno strumento poi arriva Riccardo me le marcice dice ci metto una chitarra distorta che fa una dissonanza è troppo giusto poi arriva Max che dice sì però mettiamoci una sidechain che adesso i bonobo usano quindi la modernità poi arriva Marocco e dice troppo troppo non si capisce un cazzo e metteva un basso per riportarci a terra questo mi fa sporcizia modernità rock è venuto fuori molto interessante però ci siamo posti un problema io scusami se faccio il parno no no vai vai il problema è che facciamo musica strumentale forse insomma alla nostra età dovremmo anche proporre una modalità diversa anche di raccontare qualcosa e io mi sono proposto di che cosa possiamo parlare i testi li faccio io li fai tu poi tutti scriviamo anche un po' dei test ho pensato a una cosa neutra esterna da noi e inopinabile così nessuno può rompere il capo perché se chiedi a uno di fare i testi poi a uno gli piace l'altro non gli piace è troppo potente è troppo vecchio è troppo così la scienza esatto ho provato a mettere alcune dei nostri brani delle nostre composizioni libere su la prima cosa che mi è venuta in mente mi chiamo Cosma è stato lo spazio l'universo ho messo l'avvicinamento dello shuttle alla stazione spaziale con un pezzo nostro cazzo che bello funziona le voci degli astronauti che raccontano cosa stanno facendo oppure il suono di una pulsar descritto da uno scienziato e allora ho cominciato ad associare le cose ho messo delle voci che ne so di Parmitano o della Samantha Cristoforetti su un brano ma che bello venivano delle cose profonde anche filosofiche certo ho pensato ok chiamiamo un consulente scientifico e parliamo di scienze facciamo un'enciclopedia ogni tot ogni due anni facciamo un disco su una disciplina l'astrofusica la botanica il DNA la robotica l'energia poi abbiamo idee fino a che andremo in pensione e dopo questa cosa del consulente sono passato davanti al planetario di Milano una mattina andando in studio e ho detto ma senti io provo a entrare così proprio da utente e ho finito mi impegnato di trovarmi un professorone con la barba che mi facesse fare anticamera si rivolga al ministero invece ho tratto uno della mia età che spippolava sul quadro del planetario che consiglio a tutti di andare a vederlo certo è scritto alba tramonto movimento delle stelle movimento di saturno precessione degli equinozi cioè aveva una specie di era un dj dell'universo che faceva muovere la luna ma è raccontato un paio di cose in maniera così semplice rodariana quasi tipo ah sì certo la musica lo spazio sembrano cose così astratte in realtà ad esempio si parla del Big Bang così tanto ma noi possiamo vederlo in televisione le tracce del Big Bang sai quando c'è quella nebbiolina ecco gran parte di quei puntini sono fotoni che vengono dal Big Bang io sono con la mascella così fulgorato esatto li ho chiamato subito i miei sodali gli ho detto venite immediatamente sono venuti il planetario lui ci ha raccontato un altro paio di cose tipo all'inizio l'universo era fatto solo di pochi elementi all'interno delle stelle c'era solo l'idrogeno ed elio poi dopo l'idrogeno ed elio si sono formate con le reazioni nucleari tutti gli altri elementi il carbonio l'azoto che hanno permesso al mondo di esistere poi hanno formato la vita e poi anche noi quindi noi siamo proprio fisicamente veniamo dalle stelle siamo figli delle stelle veramente e forse proprio per quello che ci attraggono Riccardo mi ha guardato mi ha fatto ma quale consulente questo è il nostro frontman e abbiamo fatto questo passo di farlo diventare da consulente a cantante del gruppo quindi noi suoniamo ci facciamo fare le immagini da un grandissimo che è Marino Capitanio è uno dei più grandi videomaker in circolazione e uno scienziato spiega una serie di item di temi fondamentali di quella disciplina e tutto questo con una musica che va se stile non saprei come dirti è emozionale dai Pink Floyd Bonobo ai Radiohead certo c'è un po' di tutto Sakamoto c'è un po' di tutto e con questa parte emotiva noi arriviamo al pubblico però se ne vanno tutti dicendo cazzo ho capito come funzionano come funziona il Big Bang che cos'è il Big Bang o perché noi siamo perché guardando lontano nello spazio guardo indietro nel tempo cioè filosoficamente molto profondo e questa cosa si è iterata dopo lo spazio che l'abbiamo fatto con la NASA e con con Fabio Peri il direttore del planetario di Milano sì abbiamo conosciuto Parmitano ci ha mandato il messaggio dalla stazione spaziale poi siamo andati sulla botanica mentre scrivevo botanica Stefano Mancuso è venuto a un ospice a un TED che facevo mi ha detto se questo capitolo lo fate con qualcun altro vi sputtano vi dico che sono tutte cazzate lo dovete fare con me quindi volentieri e abbiamo fatto botanica quello della botanica esatto e adesso abbiamo il terzo capitolo e poi li portiamo in giro tutti e tre adesso e con Telmo Pievani che è un grande filosofo evoluzionista e con l'associazione per il cancro mi tacci toglimi la curiosità ma suonare sui ghiacci come vi ho visto fare com'è siamo andati alle Svalbard che è il posto la terra più a nord che esiste nel pianeta da dove partivano i dirigibili Amundsen è partito da lì quando ha fatto l'ultimo viaggio ed è scomparso un bel nobile la tenda rossa è partito con quel dirigibili da lì ed è un posto dove non c'è praticamente nulla se non ghiaccio muschio e orsi quindi siamo andati in giro per quelle Svalbard con il guidatore con la scorta col fucile perché è una di confine siamo andati perché alle Svalbard perché c'è un posto che la scienza vedi ti dà tanto di quel materiale profondo metaforico poetico da poter lavorare che è un serbatoio inesauribile c'è questo posto che si chiama Global Seed Vault alle Svalbard l'umanità ha deciso di destinare un posto un deposito per i semi alimentari di tutte le principali colture del mondo la soia il riso il grano il farce le cose che possono fare ripartire l'umanità in caso di catastrofe ambientale è dentro la roccia è a una temperatura costante nel permafrost di non so quanto adesso il permafrost si sta un po' sciogliendo quindi forse lo devo spostare ma comunque la poesia di avere un hard disk analogico per far sopravvivere l'umanità l'ho trovata struggente siamo andati a suonare davanti al Global Seed Vault improvvisando cioè suoniamo davanti a questa cosa così bella che l'umanità ha deciso di fare e noi la omaggiamo abbiamo fatto un film che meraviglia quindi dopo The Producers che è uno dei tuoi progetti aperti c'è l'altro progetto e anche lì è proprio bello notare quello che dicevi prima ti piace confrontarti con tante facce musicali con tante anime musicali e anche Gizmodrome l'altro tuo progetto è così perché vediamo il mio idolo personale che è Mark King un altro idolo personale che è Stuart Copeland Adrian Billiard e King Crimson e tu come nasce questa cosa? si chiama trova l'intruso nel disco il progetto intanto lo guardo e dico ma non è possibile ti giuro e ogni tanto dico Copeland King Cosma Billiard comunque per me è un sogno meraviglioso è nato dall'amicizia con Stuart altro progetto collettivo io ho diretto la notte dell'Atalanta per due anni per due annate e lì era veramente collettivo eravamo in 30 sul palco gestire inglesi salentini che parlano del dialetto magrebini un puttanaio per due ma molto bello e Stuart dopo due anni che andavamo in giro un po' in tutto il mondo a suonare la notte dell'Atalanta mi ha detto senti ma facciamo un gruppo io e te facciamo un gruppo di più piccolo questi qua siamo in 27 cazzo economicamente infatti non è che facessimo è devastante cioè spostare tutto sto baraccone era complicato facciamo un tour io e te dai troviamo un po' di musicisti ovviamente lui mi dice io ne conosco un po' grazie quindi mi ha dato il tesserino come la PFM il PAS o l'Areas un gicista e Stuart mi ha dato il tesserino per poter chiama questo e ho chiamato sono diventato amico e ci ho lavorato con tutta la band di Peter Gardner David Rhodes Jack Lynch con tutti loro poi sono diventato ho chiamato Dave Fiusinski che è il chitarrista di John Zorn di Michelle De Giorcello cioè un intellettuale new yorkese che fa punk jazz e è venuto con noi in tour poi ho conosciuto Phil X il chitarrista dei Bon Jovi quindi ho potuto chiamare di tutto cioè il chitarrista di Robert Plant insomma fino a che ho chiamato Adrian a un dopo festival che facevo io di cui facevo la direzione musicale a suonare con me e con gli eli e gli ho detto guarda ti andrebbe di suonare fammi sentire gli ho fatto sentire figata ci sono vengo fantastico quindi al telefono io e Stuart che ogni tanto ci sentiamo senti ma chi chiamiamo al basso e allora io facevo i nomi di tutti quelli che mi piacevano i migliori Trevor Ron ma se aspetta Trevor sì no perché ci è venuto a sentire poi l'avevo conosciuto mi ha detto ah bella le cose che fa tutto un mondo per me da sogno perché ho seguito il tour dei police con loro e Trevor sì però Trevor è un po' mi diceva Stuart è impegnativo cazzo è un produttore poi non viene mai viene poi dopo vuole comandare l'Urso ho capito che non gli ha dato e io ho detto ma senti ma trovarne uno che non c'entra una mazza con noi tre perché lui diceva Les Claypool con cui già suonavo eh caspita però volevamo fare una cosa non già fatta ho detto scusa ma chi ah cazzo bell'idea lo conosco c'è il numero e mentre eravamo al telefono lui dice gli manda un messaggio dopo tre minuti oh ha detto che gli piace l'idea c'è fatta la band questa è fantastico e poi abbiamo cominciato a mandarci file da tutte le parti dell'oceano delle varie nazioni ci siamo poi visti qua a Milano in studio da me abbiamo cominciato a suonare insieme anche lì è partita un'altra band vittorio vittorio a proposito di gizmotron se faccio entrare un personaggio vediamo se lo riconosci e vediamo guarda un po' oh ah buona terra guarda un po' questo il pelle come si dice Andrea Pellegrini un fonico un mito ciao pelle tutto bene ciao Haro tutto a posto ciao Vitto ciao ciao Andrea Andrea che potrebbe essere una persona meravigliosa un fonico numero uno più mi ha anche trovato la persona per il mio studio che cercavo da dieci anni quindi io volevo che venisse lui in studio ma lui è toscano si sente lui è legato a quei posti lì insomma legato ora perché mi ci fanno stare per forza perché fino è un girabondo ci sono stato un po' il pelle è un girabondo però a me ha trovato la persona che si chiama come lui Andrea esatto esatto dai cosa ci potete raccontare di Gizmodron che noi non sappiamo ancora qualche qualche cosina stuzzicante dai guarda mi riallaccio al discorso mi riallaccio al discorso di Vittorio appunto quando mi spiegò un pochettino il progetto io ero già in tour da diversi anni con Adrian quindi c'è stato c'è stato il ponte e l'idea è stata colossale perché effettivamente fa l'effetto Avengers capito cioè tutti i supereroi insieme nel mio caso particolare ci metto anche Vittorio cioè Vittorio dice cosa ci faccio nel mio caso particolare ci metto anche Vittorio perché Vittorio come sta è il motivo per cui ho iniziato a suonare perché da piccolino c'era un disco che mi piaceva particolarmente che era La Forza dell'Amore dove le tastiere e la produzione è a carico di Vittorio quindi probabilmente senza quel signore sul fianco a quest'ora facevo un lavoro normale ecco mettiamola in questa maniera quindi per me è stata una roba bellissima a parte il Viper molto freddo nevoso fangoso piovoso e tutto quanto beh è stato divertente è stato veramente è stato veramente divertente Giappone Giappone ecco la variante giapponese è stata particolarmente divertente perché appunto come come ti posso dire vista con con gli occhi del come posso dire essere per me essere nel mezzo alla ai fan giapponesi che stravedono per tutti i personaggi in questione includo la FM è stato particolarmente particolarmente buffo ecco questo appunto è è uscito da pochino il disco che appunto raccoglie dei momenti del di quel tour Vittorio parla te che eri proprio nel mezzo della mischia è che nostalgia perché poi anche la cosa degli aspetti meno che ovviamente lavorando con le superstar internazionali siamo stati nei posti da superstar internazionali cioè io non avevo mai volato in first in Giappone cioè è una cosa molto bella perché se uno se lo può permettere difficilmente uno se lo può permettere perché costa 10.000 euro forse costa una meraviglia e poi l'amore soprattutto ma non solo dei giapponesi anche in Germania anche a Londra cioè l'affetto con cui vengono a vedere un esperimento sostanzialmente perché non era è una band che devi venire a vedere dal vivo sostanzialmente cioè il disco è una testimonianza ma è proprio bello quello che succede sul palco certo verissimo sto guardando anche un po' i video ah scusate no 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 vai vatti tu Rex se no parlo troppo Andrea basta no no parla parla ti prego ti prego no no ci mancherebbe altro di fronte a una roba strumentale ci tengo devo ringraziare i ragazzi di Crumar che hanno rilevato questi giovani hanno rilevato giovani ragazzi veneti hanno rilevato il marchio storico della Crumar e hanno fatto due o tre castiere meravigliose io ho portato in tour anche il Mojo che è un emulatore di Hammond secondo me uno dei migliori uno dei migliori cioè forse fa il culo per usare sempre un francesismo anche i competitor che sono bellici quello della Nord è molto bello e quello della Hammond è anche molto bello ma il Mojo secondo me c'ha un quid in più almeno questo mio personalissimo Andrea Agnoletto e Guido Scognamiglio di Crumar i due soci di Crumar esatto veramente bravi infatti nel video si vede il set minimale di Vittorio che è venuto con due tastiere wireless no la cosa bellissima appunto è che a parte a parte gli scherzi no 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 ho presente no a parte a parte gli scherzi no in realtà anche anche per me è una gioia avere appunto le tastiere slittate in quella maniera perché so che una tastiera fa quello una tastiera fa quell'altro appunto avevamo portato il mixer di Vittorio in tour con noi oltre alle casse le casse per il suo monitoraggio il mixer per il suo monitoraggio appunto dalle casse io uscivo da tutte le direct out quindi avevo avevo tutte le tastiere separate e con il modo di suonare di Vittorio appunto che a tastiera corrisponde suono chiaramente gestire il mix è molto più semplice cioè perlomeno è molto più preciso ecco non sempre non sempre il il mix down di tutte le tastiere può risultare preciso all'interno di un concerto ecco anche perché comunque era una situazione decisamente impegnativa perché c'erano due batterie di cui una decisamente stesa basso chitarra adrian esce esce dall'axe effects quindi non esce dall'amplificatore normale voci e poi appunto tutta la parte di tastiere quindi insomma era importante avere sott'occhio tutto e questo appunto ci ha anche favorito per il discorso del live di avere un materiale bello diviso dove appunto c'era grande margine di intervento per tirarne fuori per tirare fuori un disco appunto qui bisogna citare Andrea Sartirani che appunto che il ragazzo che è sempre da 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 Vittorio è fantastico e ha fatto un lavoro strepitoso sul appunto sul su questo live ecco quindi il mixer share tra l'Arthur che ha Vittorio lì ha fatto da submixer durante i live dei Gizmodrom anche quindi esattamente era presente appunto faceva come come left right il monitoraggio di Vittorio dalle sue casse e poi tutti i direct out arrivavano a me al banco ottimo ottimo beh raccontatemi ormai ormai che siamo così sbottonati gli ultimi minuti sparatemi qualche aneddoto divertente del tour ah no ricordiamo a proposito Gizmodrome è uscito il aiutatemi 16 novembre 19 di novembre 19 di novembre Gizmodrome Live adesso poi mando in onda c'è una cosa di cui sono molto felice guarda io ancora non ho il disco non è anche a me quando ti è arrivato bisogna farselo mandare io però c'ho c'ho il test press ok proprio in cartone e la cosa vinile è incredibile cioè mi è tornato un test press migliore di quello che si era consegnato probabilmente l'avrà rimissato qualcuno di bravo probabilmente sono veramente felicissimo del risultato del risultato del vinile in particolare che attenzione è un triplo vinile stampato a 45 giri quindi insomma particolarmente dettagliato sulle alte frequenze quindi insomma è venuto un lavoro che appunto non vedo l'ora di poter riascoltare finalizzato vittorio lo sai cosa mi è successo ieri fondamentalmente che è la prima volta che ho sentito il disco allora quel disco come posso dire ha tornato per un anno e mezzo fondamentalmente e ci usciva dalle orecchie a tutti come è giusto che sia allora l'altro giorno me lo sono messo su in un viaggio giusto per sentire l'effetto faceva e cancellato completamente la parte diciamo tecnica me lo sono gustato me lo sono goduto ma non sai che è proprio l'ho trovato veramente io sto aspettando di riascoltare ovviamente ci esce dalle orecchie a tutti quanti perché avendono mixato scelto i pezzi di questo della Germania di Londra questa del Giappone quindi ti dico un episodio che tu non sai che l'altra sera uscivo dalla Rai che sto facendo le prove di questa trasmissione con la band con Paolo Cosa con un po' di amici e mi ha chiamato Alex Travi che forse conoscete un manager di jazz certo lo conosco e mi diceva Vittorio ascolta ti passo una persona hi I'm Peter I'm listening to the record I really like it great job Vittorio cioè era Peter Erskine guarda ero proprio con loro due a pranzo il giorno è uscito il disco e quindi e quindi so che l'hanno ascoltato nel viaggio out of the blue proprio esatto mi piace il disco così è un enorme onore tant'è che Modesto dobbiamo organizzare qualcosa per un'abbia jazz l'anno prossimo magari con la Biba sarebbe una figata ma io vi dico l'ho ascoltato ed è veramente vivo cioè ti dà proprio la sensazione di essere lì è quello che lo stupendo mi hanno regalato pochi dischi questa sensazione cioè è veramente veramente mixato bene ti dà proprio il live l'essere presente con un buon impianto è godibilissimo quindi assolutamente non fatelo dico ai lettori di SM strumenti musicali andate subito a caccia e compratevelo perché merita veramente dai raccontatemi qualche aneddotino dai qualche non lo possiamo dire vai tu Vittorio eh no no dai dai qualche dietro alle quinte ma la faccenda di Copeland che stavi dichiarando pochi giorni fa il padre la CIA ecco com'è questa storia ma qua partono gli aneddoti no che lui è figlio di uno dei dirigenti massimi uno dei capi della CIA negli anni 70 mi faceva ridere che mi raccontava ci raccontava ma sai quando ero piccolo io non avevo un padre normale avevo un padre che tornava e mia madre mi diceva non fate arrabbiare papà che oggi c'è stato il colpo di stato in Sudan ed è nervoso perché magari lui aveva organizzato che nel suo mamma mia cioè delle robe quindi non è è uno che ha avuto una vita molto particolare sì poi invece chi c'è Mark la cosa che mi ha stupito la sua intelligenza è stata che non ha quasi mai usato lo slap ce l'ha usato solo quando serviva per il resto è un sessionman di una solidità strepice gli abbiamo messo in mano un musicman un fender jazz bass col plettro con le dita ha un suono della madonna un tiro epico perché è un batterista cosa che non sapevo sì sì nasce lui nasce inizialmente batterista sì percussione quindi questa doppia attacca gli è stata strautile e poi Adrian invece vabbè ma Adrian ti può raccontare Andrea mille aneddoti che ha tutte le chitarre a casa però cioè tutte le chitarre che si dipende e va in giro con una roba di grafite è vero quella Parker Fly quella Parker Fly è perché quella lì allora su quella chitarra ti posso raccontare io un aneddoto ultimo un certo con Adrian settembre in Europa Berlino mi chiede la cortesia di tenerli una delle due chitarre che porta a giro perché le chitarre ne esistono tre una che tiene sempre a casa perché è fretless diciamo quella oro e quella argento mi dà quella oro per tenerla in Europa allora quella già è una chitarra che costa quanto un pianoforte a coda averla come responsabilità mi faceva sudare il sangue l'ho tenuta qui nel mio salotto per la bellezza di due anni ripeto due anni la riporto a Nashville perché si fa un tour laggiù c'era il zì leggermente calante questo per farvi capire la chitarra ad amanti c'è una roba che a livello di affidabilità soprattutto adrian è uno che le stressa forte le chitarre uno che non è che le sta a guardare le suone le suona forte e quindi insomma ha bisogno di uno strumento particolare quelle due chitarre dimmi no no non ti vorrei interessa quelle 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 chitarre insomma hanno fatto una quindicina di anni e ancora sono sono in pieno punto quindi quello è il motivo per cui se le tiene cari se le porta in giro ecco a me mi ha fatto capire il motivo per cui se le porta in giro prendendola facendo un accordo e poi prendendola dalla leva cioè la sollevata esatto bravo poi la ripresa in mano perfetta quindi io solo posso fare queste robe quindi è vero ma scusate una roba che non abbiamo detto che va detta nel live ovviamente c'era anche un altro batterista perché steward poi c'ha il trip di voler cantare una guitarra che cerchiamo sempre un po' di arginare un batterista della madonna che è p3 biggin che è stato batterista di any wine house dei level fortitudi un sacco di gente quindi era un degno compare prima di chiudere abbiamo un po' di messaggi allora vediamo un po' vediamo un po' ho fatto allora ho fatto un paio di concerti in collaborazione con un nastro fisico una figata vedi Emanuele Brizzioli che saluto Emanuele è un nostro amico Andrea Sartirani che è bello un nuovo disco live del Gismo fantastico Andrea ma l'hai registrato tu il disco che mi fa Alessi Briano anche per me fu illuminante la forza dell'amore le tastiere erano bellissime ah sì perché il pelle prima non c'era io ho esordito con questo ah guarda si torna lì per me quello è stato è stato per la nostra generazione quel disco esatto esatto voglio fare velo ma ti dico solo che ci vediamo appena sei a Milano e ci sentiamo tutti io ho le tracce separate già solo se le apri nude funziona esatto voglio venire a sentire anche dal sottoscala giuro sto sottoscala con il cornetto con il cornetto voglio sentire guarda l'amicone questo Lele Paiuzzi grande amico mio grande Andrea Pellegrini ancora il piacere l'onore di averti come fonico alla sagra della briocia congelato insieme a il futuro omaggio Lucio D'Allo fondamentale fondamentale ero appena tornato da Avellino me lo ricordo ancora si sta parlando di almeno dieci anni fa ero tornato da Avellino amico del service che aveva bisogno di aiuto e quindi qui vicino dalle mie parti trovo Lele ci regalarono una serata meravigliosa gran bassista Lele gran bassista ho avuto il privilegio di averlo come bassista nella band e devo dire che è un gran bassista ciao Lele Marco Balla chiede ah Marco Balla a proposito Vittorio tu che subito io ti suggerisco di fare una capatina a casa di Marco Balla gli ranzi via qualcosa e tranquillo lui col sorriso accetta tutto ci vediamo Marco esatto passerà a presto vedrai Vittorio arrivare a casa tua Marco ma il DVD Blu-ray live dei Gizmodrome allora non abbiamo stiamo vedendo quanto footage cioè quanta roba girata abbiamo perché ovviamente non c'è non siamo i muse quindi non ci sono le economie per poterci portare dietro una troupe significano cinque telecamere in Inghilterra in Giappone in Europa quindi abbiamo ripreso un po' di roba dobbiamo vedere quanto c'è e se è sufficiente per fare un documentario secondo me forse sì almeno come documentazione del concerto poi abbiamo ore di girato del backstage che forse è anche più interessante insomma potrebbe uscire ma per adesso non è ancora pronto ok un saluto Alfredo Migliavaca altro grande amico di SM Strumenti Musicali un saluto veloce un'ultima lezione ciao Riccardo ciao Alfredo un grande saluto a Vittorio che non mi conosce ma io conosco lui e un saluto ad Andrea ecco il balla siete riusciti a far suonare il basso a Mark King eh sì ti piaceresse suonare come Mark King ti piaceresse lo dico io lei le dice che era il 2014 2014 2018 ok ok e guarda a proposito di Mark King mi aggancio al discorso di Vittorio Mark King ha veramente mi ha sconvolto proprio per l'intelligenza musicale mi ricordo in studio quando fu fatto il disco era veramente il primo a memorizzare le strutture a fare a richiamare i segmenti dei brani e fu lui il primo che veramente posò il suo basso chiese se c'era un basso se eravamo alle officine meccaniche e Mauro Pagani c'è un meraviglioso jazz con delle corde grosse così al contrario degli spaghettini che solitamente Mark usa sul suo e comunque aveva un suono della Madonna e suonava da paura proprio è micidiale veramente micidiale io amo io amo quell'uomo ma non diteglielo comunque ragazzi si è fatta una certa abbiamo raggiunto abbiamo superato l'ora di una bellissima discussione che mi piacerebbe poi che ne so magari l'anno prossimo replicare avevo ancora una domanda per Vittorio se me la fa passare se mi dà ancora qualche minuto gliela butto lì si sa voglia la di 812 dai pelle grazie 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 dico solamente un'ultima cosa veloce Vittorio ho scoperto che l'Electon che te hai trovato nel cestone a un euro ok l'Electon è stato usato in Shannon on your crazy diamond e con questo ti saluto te lo invito perché ho visto ho visto su Facebook una foto di John Karin che ha postato che aveva trovato l'Electon esattamente uguale al tuo e appunto scriveva che era stato usato su dei suonini in Shannon on your crazy diamond e con questo mi congeto viva il cestone a un euro viva il cestone no un euro vittorio voglio venirlo a vedere pago per venirlo a vedere caspita dai pelle grazie ragazzi vi abbraccio grazie mille dell'invito un abbraccio poi noi ci sentiamo ciao pelle un abbraccione ciao 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 vittorio un'ultima domanda prima di chiudere dai abbiamo parlato tra le tante cose è saltato anche fuori Sanremo io su sm strumenti musicali negli anni ho intervistato gli orchestrali i musicisti e mi sono fatto raccontare come funziona per il turnista della musica pop dell'orchestra ritmico-sinfonica all'orchestrale quello della pop non ho mai parlato con un direttore d'orchestra ti va di due cenni come funziona per il direttore d'orchestra un Sanremo come funziona io prima di tutto faccio una premessa che sono un direttore d'orchestra un musicista del rock che è prestato la direzione d'orchestra cioè scrivo arrange produco i brani e poi vado anche a dirigerli ma non sono proprio non ho fatto la carriera canonica del direttore d'orchestra mi sono fatto un po' sul campo cioè imparato un po' a gestire le cose anche perché con le colonne sonore lo faccio molto in studio e quindi mi ci ritrovo funziona così che o se sei il produttore dell'artista come mi è capitato molte volte devi tradurre in suonato quello che c'è sul disco sostanzialmente spesso aggiungendoci una parte di orchestra perché non è scontato che ci sia magari un gruppo rock oppure che ne so un brano che non la prevede spesso c'è anche questo tipo di pensiero se arricchire un brano che poi andrà in radio però in un'altra maniera senza orchestra quindi bisogna essere molto attenti a dosare la quantità di orchestra e bisogna deciderlo con l'artista anche un po' con la casa discografica perché se uno fa un over promise ti faccio sentire una roba con l'orchestra piena e poi il pezzo è piano e voce alla radio non lo riconosci più tendenzialmente però si cerca di omologare le due cose e nel momento in cui viene preso l'artista il brano va trascritto prima di tutto nelle sue parti cioè com'è scritto nel disco e poi si cominciano ad aggiungere degli elementi che sono gli elementi orchestrali ad esempio l'anno scorso con i Coma Cose è stata un'aggiunta molto molto delicata molto raffinata nel senso che non ci doveva essere una grande differenza tra quello che si andava ad ascoltare in radio e quello che si ascoltava in televisione in diretta da Sanremo poi si fanno si mandano le partiture l'orchestra se le prova col maestro residente un po' di volte poi di solito si sono fatti io ho fatto più di 20 di direzioni d'orchestra con artisti vari negli anni una volta e adesso non so col covid ogni volta cambia si andava due volte a Roma abbiamo provato anche spesso nel teatro 5 di Cinecittà meraviglioso e vai a fare proprio le prove musicali quasi anche senza il cantante cioè il cantante viene ma fa una lettura del brano e poi si fanno due prove a Sanremo cioè in posizione con l'orchestra nelle loro posizioni le loro buche per vedere gli ascolti veri è quello che succede quindi queste quattro prove sostanzialmente sono la Bibbia poi c'è la prova generale del lunedì prima dell'inizio di Sanremo che è molto divertente perché prima di tutto ti senti tutti i pezzi di tutti incontri tutti i discografici tutti i cantanti ed è una specie di ritrovo familiare sagra paesana e ritrovo dei reduci quindi è molto divertente e poi si va in diretta senza rete cioè quando è il tuo momento arrivi mezz'ora prima dell'esibizione nel camerino aspetti poi c'è siedi in prima fila nella zona deputata ai direttori che mi trovo di fianco Peppe Versicchio piuttosto che altri amici e poi si fanno quei tre gradini e si sale e si dirige l'orchestra qui eravamo nei sontuosi camelini di Sanremo a fare la prova dieci minuti prima di salire la facciamo a voce cioè cantando e poi mi sono portato la telecamera quell'anno sul palco me la sono messa sul leggio e qui ero vicino ai tromboni quindi chi sente l'audio di questo di questo cosa sentirà che sono dei tromboni molto forti era per il dopofestio è divertente comunque è molto divertente molto bello è anche una bella responsabilità però è divertente è molto divertente Vittorio io più che ringraziarti non devo assolutamente poi venire a trovarti per come dire sdebitarmi di questa tua enorme disponibilità di oggi una tazzina di electone se vuoi così puoi venire eh ma adesso che abbiamo saputo sta notizia bomba che tra l'altro il pelle ci dà un link di youtube da da condividere adesso andremo andremo subito a vederlo andiamo a vederlo Vittorio grazie grazie a voi grazie molto divertito e alla prossima quando volete sono qua ormai siamo a dicembre auguri di buone feste auguri per tutto speriamo di vedere presto un grazie agli amici di sm strumenti musicali e di audiofeder.com per averci seguito vi ricordo che potete rivedere quando volete questa diretta sui nostri canali quindi sul canale youtube strumenti musicali tv sulla pagina di sm strumenti musicali trovate tutto io ringrazio ancora Vittorio un salutone grazie Vittorio ciao ciao a presto ciao 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 a tutti e grazie alla prossima con sm and friends smstrumenti musicali punto it e audiofeder punto com ciao ragazzi da Riccardo Germi grazie a tutti